I piumini Moncler hanno conquistato anche Piazza Affari, il debutto dopo un lungo percorso, segnato da una forte crescita sui mercati internazionali. La società è arrivata in borsa con una capitalizzazione di oltre 2 miliardi e mezzo di euro, al termine di un'operazione che le ha permesso di raccogliere i capitali necessari per continuare a crescere. Moncler è stata la migliore ipo in Italia per ordini ricevuti dal 1999. La cerimonia è stata aperta dall'amministratore delegato di Borsa Italiana, Raffaele Ierusalmi, e da quello di Moncler, Remo Ruffini, un binomio che conferma la centralità di Borsa Italiana nel settore della moda. Noi abbiamo dimostrato con la quotazione di oggi che negli ultimi 4-5 anni siamo la borsa leader a livello mondiale in questo settore. abbiamo quotato quasi il 60% della capitalizzazione di mercato che si è quotata nelle borse mondiali negli ultimi 5 anni. Il debutto del titolo a Moncler è stato anticipato da una ipo di grande successo, dove la domanda ha superato 31 volte l'offerta per un valore di 20 miliardi. Gli investitori arrivano da Asia, Medio Oriente, Europa e Stati Uniti. Ad ascoltare Remo Ruffini diversi testimonial che in questi anni hanno seguito il percorso della società. In dieci anni la Didi Moncler ha portato il fatturato dell'azienda da 45 a 570 milioni di euro attesi a fine 2013 ed è convinto che ci siano le potenzialità per fare ancora meno.